ci stiamo godendo questo momento mantenendo i piedi ben piantati per terra però anche gustandoci questo inizio di campionato molto promettente per la nostra squadra adesso ci aspettano ogni domenica sarà sempre più dura però è chiaro che vincere da uno spirito una voglia sempre superiore cercheremo anche qualche altro rinforzo che possa aiutare la squadra nei momenti duri che probabilmente arriveranno però è innegabile che l'inizio è stato molto soddisfacente